Se non riesci a rinforzare il gioco in seconda legge, cosa significa il resto della tua season? Posso ripetere? Se non riesci a rinforzare il gioco in seconda legge, cosa significa il resto della season? Perché saranno i secondi dietro di Juventus e così via. Non posso giudicare la season ora, quindi non è il momento, credo che bisogna aspettare fino alla fine della season. Mi dà il tuo numero di telefono e ti ringrazio. Carlo, Arsenal's away form è molto diverso da loro loro form. Questo ci ha dato un'esperienza di speranza, che non ci saranno così forti? È davvero difficile per noi, ma dovremmo provare. Credo che c'è una atmosfera diversa, un'ambiente diversa, non c'è nulla da perdere. E' un'ambiente diversa, non c'è nulla da loro. Credo che il secondo half ci ha dato un'idea di come poter giocare il prossimo gioco. E' un'ambiente diversa, non c'è nulla da loro, non c'è nulla da loro, non c'è nulla da loro. Non c'è nulla da loro, non c'è nulla da loro. Il secondo half è un'ambiente diversa, non c'è nulla da loro. perché alcuni giocatori hanno avuto un po' di crampi. Penso che questo è un'altra cosa che possiamo usare nel gioco di San Paolo. San Paolo sarà diverso, ovviamente bisogna giocare con molta intensità, ma non c'era un problema fisico, ma non c'era un altro tipo di problema. Arsenal ha perduto alcuni chances al final del match, credo che 3-0 sarebbe stata troppo grande per la scuola? È quasi impossibile, credo che abbiamo avuto qualche opportunità, non molto, ma come ho detto, faremo il nostro meglio. Carlo, eravete frustrati non a scorrere un gol, perché avevi alcuni buoni chances? Sì, ovviamente, 3-1 potrebbe essere meglio per noi, ma dobbiamo accettare questo risultato e essere concentrati su quello che dobbiamo fare per creare problemi per l'Arsenale nel gioco gioco. A presto. A presto.